Grazie. Bene, e chiamo qui con me la prima ospite della mattina, è una donna Francesca Bellettini, CEO e Presidente di Yves Saint Laurent. Ecco qua Francesca, siamo onorati di averti con noi un'italiana, un'italiana che tutti conosciamo, è un po' di tempo che volevamo un po' averti qua con noi all'osservatorio, quindi la prima volta all'osservatorio, è abbastanza impressionante la platea oggi. Molto, molto, grazie, buongiorno a tutti, innanzitutto grazie di avermi invitata, è veramente un onore essere qua, grazie a te perché sei tu che mi hai voluto qua, più di tutti. Questo sicuramente. Do qualche elemento un po' del tuo background perché è anche bello un po' inquadrare il tuo percorso. Lauren Bocconi, quindi a Milano. Sì, col professor dall'occhio che è qua. Ho visto anche dall'occhio, ecco qua che è qua con noi. La Bocconi, sempre portavoce di talenti incredibili. Goldman Sachs, quindi una carriera che inizia sul piano finanziario stretto e poi entri nella moda con un percorso molto diversificato, iniziando in Prada. Sì. Grazie a Patrizio Bertelli. Esatto. Devo dire grazie a tante persone nella mia vita, non finirei mai. Un brand straordinario quindi. Prada, le cito perché sono straordinari tutti, Prada, il Moulin, Gucci e Bottega Veneta. Esattamente, sì. Quindi un percorso straordinario che poi ti porta nel 2013 a Yves Saint Laurent per volontà peraltro di... Transaripino. E anche questo direi che è un elemento straordinario. Francesca, parto subito con la prima domanda perché vogliamo subito sentire dalle tue parole qualche commento relativamente proprio al brand che stai guidando. Sei alla guida di uno dei brand luxury più iconici. Questo indubbiamente, creato, lo dico così per anedottica, nel 1961, fa parte di un grosso gruppo francese, Kerin, un grosso gruppo da 15 miliardi, del quale fanno parte anche Bottega Veneta, Pomellato, Brioni e Licito, oltre al fatto che sono nomi straordinari, ma anche perché sono soci di alta gamma. Ma quello che ci interessa oggi è che Yves Saint Laurent è stato il brand che ha avuto la crescita più grande, più forte nel periodo di Covid. Due dati, ma straordinari, è cresciuto da 1,7 miliardi nel 2020 a 2,4 miliardi nel 2021. Sì. Grazie. Veramente incredibile. Grazie. Se poi pensiamo che quando Francesca Bellettini ha preso in mano Yves Saint Laurent nel 2013, il brand fatturava... 500 milioni. Devo dire che in quasi... Con un ibit del 13%, perché parliamo tutti di fatturato, ma c'è anche la profittabilità, perché crescere senza fare valore e profitto è sterile, per cui tendiamo a dare sempre grandi numeri di fatturati, ma quello che ci rende molto orgogliosi è anche la profittabilità, perché vuol dire che quello che stiamo facendo porta valore alla fine della fiera. E qua ce n'è stato veramente tanto, però io ti devo chiedere qual è la ricetta. Qual è il fatto e quali sono i fattori chiave di successo? Ma la ricetta, il risultato che abbiamo avuto durante la pandemia è il risultato della strategia precedente e della strategia che continuiamo. Noi ci siamo da subito focalizzati sul brand e il posizionamento del brand, abbiamo messo la creatività al centro. Quando io sono arrivata in Saint Laurent la prima cosa che abbiamo fatto è stato siederci insieme a Claudia e Federica e al loro team di Bain, con cui avevo già lavorato tante volte, dai tempi di Gucci e poi anche in Bottega Veneta. Abbiamo definito insieme quello che poteva essere un primo passo verso un full potential a 3 billion e adesso ci siamo, però ai tempi quando sei 500 milioni pensare ai 3 billion sembra assurdo e invece abbiamo fatto un lavoro abbastanza pragmatico di innanzitutto credere al fatto che si potesse arrivare. Come fai? Ti immagini di scenari che ti porteranno là e poi cerchi di farlo succedere. Sempre, ripeto, mettendo il brand e la creatività al centro. Noi siamo nati nel 1961 perché è stata messa la creatività al centro. Pierre Bergé e Yves Saint Laurent hanno fondato il marchio perché Saint Laurent era senza lavoro, era uno dei creativi più brillanti ma era stato licenziato da Dior, si trovava senza lavoro e ha incontrato Pierre Bergé e insieme hanno fondato la Maisonne Saint Laurent per Yves. Quindi si parla di creatività al centro ma per noi non c'è alternativa, è nel nostro DNA. Definito questo abbiamo cercato di capire come si potesse crescere rispettando il posizionamento elevato del brand. Abbiamo agito sulla struttura aziendale, abbiamo creato delle business unit specializzate per categoria di prodotto, dallo sviluppo fino alla consegna in negozio in maniera tale che ogni categoria fosse seguita dall'inizio alla fine, quindi si sviluppassero fortissime competenze. Abbiamo investito anche in Italia nella produzione ma soprattutto nello sviluppo prodotto e nella ricerca per pelletterie e calzature. Avevamo già la fabbrica acquistata, da Yves stesso e l'atelier di Redditware in Francia che controlla ancora oggi tutto lo sviluppo e la produzione del nostro Redditware. E poi forse la mossa che è stata più chiave per me è stata quella di dare più autonomia ai mercati. Quando io sono arrivata in Saint-Loran i presidenti dei mercati non erano dei veri presidenti e CEO, erano dei retail director. si occupavano quindi soprattutto della parte dei tele negozi ma non gli veniva richiesto di gestire il brand sul mercato a tutto tondo e soprattutto non riportavano al CEO. C'era un retail direct tra il CEO e loro che filtrava. E questo per me era un modello che non funzionava né per come sono io, per come gestisco le cose, né per quello che dovevamo fare. Quindi avendo delle persone brillanti, avendole conosciute, ho deciso di renderli responsabili di tutte le funzioni, quindi dei veri CEO locali che dovevano occuparsi quindi di retail, di wholesale, di wholesale strategies, della esecuzione delle strategie di comunicazione perché l'immagine e le strategie di brand si fanno al centro ma poi vengono contestualizzate nei mercati. E uso questa parola apposta perché proprio rispettando il brand quello che noi facciamo contestualizziamo, non localizziamo, non diventiamo un altro brand su mercati diversi ma cerchiamo di spiegarci meglio per le persone a cui possiamo piacere. Questo è un'altra possibilità di conoscere meglio la clientela locale in ogni mercato perché io posso viaggiare sempre, anche questo pomeriggio vado a Tokyo come sai, però non conoscerò mai nessuna delle persone che lavorano all'headquarter a Parigi conoscerà mai il mercato come le persone che lo vivono tutti i giorni. Quindi responsabilizzare i mercati ha creato un grosso focus locale, una grandissima attenzione sulla clientela locale e sui negozi che avevamo perché noi siamo dovuti crescere sia a livello comp, quindi forza attenzione a retail access, ma anche a prendo punti vendita perché non ne avevamo, avevamo meno di cento negozi nel 2013. Quindi cercando di stare focalizzati sulle cose che avevamo abbiamo sviluppato una serie di practices o KPI che noi guardiamo che poi quando andiamo ad aprire nuovi negozi trasferiamo e questa strategia si è rivelata premiante in pandemia quando potevi crescere solo con la clientela locale. Quindi non abbiamo dovuto cambiare linguaggio, non abbiamo dovuto rieducare la forza vendita o cambiare, semplicemente era l'unico modo e credo che tutte le aziende che hanno passato questo periodo con maggior successo sono quelle che erano già più forti sui locali. Ma è molto interessante quello che dici perché sei partita dicendo che bisogna avere coraggio nella visione, credere che si possa crescere, quindi buttare veramente il cuore oltre l'ostacolo, ma visione ed execution, quindi l'execution con un retail, con una strategia retail forte. Poi sapevamo che nel tempo dovevamo diventare un'azienda più di retail che di wholesale, mentre partivamo essendo un'azienda più di wholesale che di retail. Non saremo mai un'azienda 100% retail perché io credo molto nel canale wholesale, perché il consumatore approccia il brand in modi diversi. Se un consumatore spende da un wholesaler è perché sceglie anche l'horsaler. L'importante però è che l'horsaler condivida i tuoi valori. Durante la pandemia abbiamo accelerato questa scelta perché comunque si sapeva che il 2020 sarebbe stato un anno di contrazione e quindi abbiamo anticipato certe scelte che ci avrebbero fatto contrarre ancora un pochino di più per essere poi più forti dal 2021, come appunto ridurre la distribuzione wholesale firmando con tutti i clienti europei contratti di distribuzione selettiva, che vuol dire un maggior controllo, un allineamento nelle strategie, interrompendo tutti i markdown, quindi non più vendite a saldo nel negozio di Saint Laurent e anche passando nell'ottobre 2020 sulla piattaforma digitale di Kering che ci ha dato modo di sviluppare molto meglio l'omni channel. Quindi abbiamo cercato di rimanere molto focalizzati su quello che potevamo controllare, abbiamo fatto un altro piano a full potential insieme a Claudia e Federica a ottobre 2020 ai 5 billion, lo posso dire perché è già pubblico, perché comunque se devi avere dei riferimenti devi comunque cercare di guardare avanti, ma non perché si gettano dei numeri, ma perché segni una traiettoria e sempre cerchi di capire come ci puoi arrivare rimanendo coerente con i valori che hai. Abbiamo avuto il coraggio di fare certe scelte in quel periodo che poi hanno premiato. Perfetto, hai toccato il tema del retail, della vision e adesso volevo entrare un po' nel punto per noi un po' core, che è quello della produzione, della manifattura e anche della necessità, per Altagamma questo è un tema molto pregnante, della valorizzazione anche dei talenti manifatturiere. Una breve premessa, Altagamma si è occupata da molto tempo di questo tema, abbiamo scritto due libri, abbiamo anche verificato insomma insieme ad Union Camere in uno studio che le aziende necessiteranno di qui a 5 anni in 7 categorie di 346 mila talenti del fare, ma ne troveranno soltanto il 50%. Cosa significa questo? Che le aziende del nostro comparto mettono la craftsmanship al centro, ma fanno anche un po' fatica, quindi bisogna riposizionare questi valori. Voi producete in Italia, avete dei piani di espansione e quindi la domanda è in che misura per il vostro brand e per Saint Laurent, che è un brand iconico del lusso, avere uno stabilimento produttivo in Italia che senso ha e se ritieni che la manifattura italiana abbia veramente quella tu, quel portante significativo per voi? Sicuramente la manifattura italiana non è importante solo per Saint Laurent, ma è importante per tutto il settore. Come detto, Saint Laurent nasce come Maison de Couture, quindi il cuore dell'abbigliamento ce l'abbiamo in Francia, però gli accessori di Saint Laurent sono nati, si sono sviluppati quando Saint Laurent è stata acquistata ai tempi da quello che era Gucci Group, oggi che era in Group e quindi si è appoggiata molto all'esperienza che il gruppo aveva in Italia, grazie a Gucci e poi a Bottega Veneta. Poi piano piano diventando più grandi, ogni marca è diventato indipendente come Saint Laurent e abbiamo continuato a sviluppare quel canale, quella filiera che ci aveva consentito già di diventare successo negli accessori, perché quando io sono arrivata in Saint Laurent, benché fosse 500 milioni, era già comunque ben bilanciato come marchio in termini di diversificazione del prodotto e anche di mercati, quindi chi c'era stato prima di me, sia dal punto di vista di CEO che di stilista, aveva già fatto un ottimo lavoro a creare un portafoglio di prodotti di successo, facendo leva anche sulle grandi capacità che c'erano nel gruppo Gucci. Abbiamo continuato ad investire, come Saint Laurent direttamente abbiamo anche aperto un'atelier di calzature in Veneto, espanso la fabbrica a Scandici e nel febbraio del 2023 ci trasferiremo su un nuovo atelier di marocchinerie di 28 mila metri quadrati sempre a Scandici, che è un progetto che per me ha un valore speciale, perché è un progetto anche di riqualificazione e bonifica di una struttura esistente. Noi ci siamo accordati con Cassa Depositi e Prestiti e quindi abbiamo lavorato con loro questi tre anni per bonificare un edificio che doveva essere un posto dove venivano raccolti documenti cartacei, ne sono stati costruiti 4 o 5 in Italia, poi si è passati al digitale e questo posto è stato abbandonato per vent'anni. Quindi noi ci siamo messi d'accordo con loro, l'abbiamo trasformato in un atelier di pelletteria dove internalizzeremo il 100% delle attività di ricerca e sviluppo e molto poca produzione, continuando invece a lavorare sulla produzione con i partner. Perché noi siamo cresciuti anche grazie ai fornitori italiani, al fatto che hanno creduto in Saint Laurent, nel nostro modello, nella nostra qualità e quindi investiamo con loro. Io credo che sia fondamentale invece internalizzare quanto più possibile la ricerca e lo sviluppo perché lì definisci chi sei, come fai il prodotto lo definisci in casa, poi il partner ti aiuta a renderlo una produzione di volume. Quindi questo è l'investimento che faremo l'anno prossimo in Italia, amplieremo anche la fabbrica di calzature nel 2024, l'abbiamo già raddoppiata ma aumenterà ancora. Noi lavoriamo moltissimo con l'Italia ma anche con la Francia perché poi lavori laddove ci sono le competenze giuste per fare il tuo prodotto. In Italia stessa ed è per quello che io non credo moltissimo nell'internalizzazione totale della produzione, ci sono ancora i distretti industriali. Io sono romagnola, è un distretto industriale calzaturiero molto forte in Emilia Romagna, però so che anche in Emilia Romagna c'è una forte specializzazione a fare un certo tipo di calzatura ma magari un altro tipo di calzatura la devi fare in un altro posto in Italia. È lo stesso per le borse, la borsa morbida rispetto alla borsa rigida, quindi è molto importante mantenere quella flessibilità di poter andare a trovare le competenze sul territorio italiano dove ci sono e ultimamente abbiamo espanso la produzione di pelletteria un po' anche in Francia proprio perché abbiamo introdotto prodotti che per manualità potevano essere fatti meglio da fornitori francesi, non è una questione di nazionalismo ma è una questione di competenze. Sì, peraltro non è una questione di nazionalismo, noi siamo ovviamente quello che hai detto è molto importante per l'Italia ma il comparto dell'alto di gamma ha delle radici europee quindi con la Francia abbiamo insomma delle relazioni ottime e insieme stiamo anche immaginando di poter fare un'operazione di valorizzazione di queste professioni perché serve veramente a tutta l'Europa. Ma comunque chi ha delocalizzato fuori dall'Europa un certo tipo di produzione ha poi anche già fatto le scelte contrarie perché se lavori nel settore del lusso il consumatore vuole la qualità e un prodotto di qualità può anche sopportare un prezzo più alto dove non funziona quando non c'è questa relazione tra qualità e prezzo ma se tu dai un prodotto di alta qualità il consumatore è disposto a pagare di più e un certo tipo di qualità si trova solo in certi posti. Assolutamente. Una domanda più soft che invece è come tu ti sei sentita come italiana all'interno di un gruppo francese a gestire un brand francese iconico che ha un suo DNA. Come ti sei relazionata? Come è stata? Io mi sono sentita benissimo nel senso che per me era talmente importante l'opportunità che non ci ho neanche pensato al fatto che mi stavo trasferendo in Francia e che cosa questo avesse potuto dire. Non parlavo neanche il francese, infatti è la prima cosa, parlo ancora molto male, però diciamo adesso almeno lo capisco bene. È stata la prima cosa che ho chiesto a François Henri quando mi ha proposto Saint Laurent, dico ma lo sai che non parlo francese? Lui mi ha detto sì, era contento lui e io ho saltato, insomma ero felicissima, non ho pensato un momento al fatto che ci potessero essere delle difficoltà. Poi mi sono accorta di una cosa bellissima che in Francia tutti amano Saint Laurent, è un marchio del popolo, ma lo è veramente per quello che Yves ha rappresentato. Yves è stato il primo a creare il Pret-à-Porter dall'Haute Couture, quindi a dare lo stile se vogliamo alla strada, ha aperto negozi di Pret-à-Porter, ha investito nelle fabbriche, quindi c'è molta vicinanza dei francesi al marchio Saint Laurent, forse fra le tre grandi Maisons de Couture, Chanel, Dior e Saint Laurent, Saint Laurent è quella che viene più vista vicina. E quindi mi sono trovata in una realtà dove qualunque cosa facessimo era un po' di tutti e dove il nostro successo è stato accolto benissimo. La Francia, le persone erano felici del successo di Saint Laurent e come mi sono approcciata con un grandissimo rispetto del brand e delle istituzioni francesi che tra l'altro mi hanno anche premiato, quindi devo solo ringraziare. Faccio una specifica, una donna italiana che è stata insegnita dalla legione d'onore francese, cioè straordinario, cioè non è proprio da tutti. Bravi, grazie. Però deriva molto dal ruolo che io ho e da quello che ho fatto per questo brand che è amatissimo in Francia, quindi al di là di Francesca la legione d'onore l'ha avuta, il CEO di Saint Laurent anche quel proprio team ha fatto questo per un marchio che loro amano. Quindi ci approcciamo sempre con tantissimo rispetto, sapendo sia io che Anthony, Anthony Vaccarello, lavoriamo per Saint Laurent e per portare avanti una legacy di un brand che ci vede protagonisti di una parte della propria storia. Quindi sentiamo molto questa responsabilità di portare avanti la legacy e farlo diventare quello che può essere. Sentendoti e ascoltandoti è chiaro che tu hai una visione molto chiara, molto strutturata, finanziaria anche della visione da percorrere e quindi anche molto determinata. Come bilanci questa visione così strutturata e razionale con anche una sensibilità che il brand ha e lo ha testimoniato verso la responsabilità e la sostenibilità che vedremo è un tema molto importante per tutti i brand. Come ho detto prima un po' parlando di crescita senza profitto sarebbe sterile pensare di crescere in modo irresponsabile non è un'opzione. Quando gestisci un brand del lusso già sai che hai un'influenza perché il settore è un settore che tutti guardano. Più grande diventi più devi dare l'esempio. Quindi cerchiamo di fare le cose nel modo più responsabile possibile, lo facciamo in modo autentico e non è una strategia di marketing. Infatti parliamo poco anche di quello che facciamo. Forse il mio team dice anche troppo poco perché ad un certo punto parlando puoi dare anche l'esempio. Questo però è un problema mio perché io quando si parla di responsabilità e sostenibilità ho un po' la sindrome dell'impostore. Penso di non aver mai finito. Penso che non si possa finire mai e che si possa sempre andare avanti. Quindi penso sempre di più a quello che non abbiamo fatto e faremo o potremo fare rispetto a quello che abbiamo fatto. Però in realtà parlare anche di quello che si fa, parlare del fatto che riuscire a preoccuparsi della filiera produttiva, aiutare i fornitori affinché possano fare le cose bene e non costringerli a fare delle scelte che anche per loro non sarebbero sostenibili è importante. Noi infatti da luglio di quest'anno abbiamo dedicato una parte del nostro sito e-commerce alla sostenibilità, a parlare dei progetti che abbiamo fatto in maniera tale che le persone che lo vogliono sapere possono andare e verificarlo insomma, ma non cerchiamo di fare sostenibilità per vendere una borsa in più. La sostenibilità è diventata e la responsabilità sociale parte della nostra cultura sia perché siamo Saint Laurent e ancora di più perché siamo parte del gruppo Kering. Per François Arripino questo è un valore da sempre, non è una moda di adesso e ha costruito il gruppo così. Abbiamo tutti degli obiettivi non solo numerici ma anche di sostenibilità. Io ce li ho, il mio team ce li ha, i bonus sono legati anche a questo. Quindi bisogna fare delle azioni concrete e essere anche un po' fieri dei passi che si fanno anche se c'è ancora tanto da fare. Però io sono molto fiera del fatto che il settore del lusso stia spingendo molto da parte di tutti in questa direzione. Mi piace quando anche collaboriamo tra aziende di gruppi diversi per fare la differenza. Un'ultima domanda ma in uno snapshot abbiamo ormai terminato il nostro tempo. Abbiamo molti brand del nostro comparto qua presenti se tu dovessi identificare una o due sfide che secondo te sono le più pregnanti per il prossimo anno, per voi o per il comparto in generale. Quali sono? Io onestamente come sfida vedo sempre quella dei talenti perché qualunque crisi si possa avere davanti se hai il team più forte la fronti meglio degli altri. Quindi per me la sfida più grande che ogni CEO ha è quella di gestire i talenti e di far sì che crescendo tu non diluisca mai il livello di talent che hai. Quindi per me l'attenzione alle persone, il reclutare persone talentuose a livello di skills ma anche che possono lavorare bene insieme agli altri è la sfida più grande perché poi quando le persone sono brave te le rubano anche quindi bisogna riuscire a reclutare nuovi talenti ma anche a tenere quelli che si hanno e abbiamo fatto recentemente anche qui durante la pandemia una scelta abbastanza innovativa anche a livello di struttura organizzativa perché io vedevo l'azienda come ho detto prima molto proiettata verso la clientela e sì anche alle risorse umane, ai dipendenti però volevo che fossero messe esattamente sullo stesso piano perché quando si parla di capacità di client engagement se poi tu non sei capace di avere engagement con i tuoi dipendenti non sei credibile e quindi abbiamo creato una funzione che gestisce insieme clienti quindi chi è responsabile del client excellence è anche responsabile delle risorse umane perché voglio che le cose vengano trattate esattamente allo stesso modo. Molto interessante, quindi hai creato un ecosistema armonico. Grazie Francesca, grazie per essere stata qua con noi, un grande applauso a te, complimenti per il tuo lavoro e a prestissimo. Grazie mille, grazie.